La nuova tappa della via Crucis lancianese, difficile definirla una partita, doveroso definirla uno spettacolo. Francamente imbarazzante, il Pineto fa 10 gol, giocando 20 minuti per tempo, su ciò che resta della Spa Lanciano. Meglio evitare commenti. Alla prima azione di gioco il Pineto va subito in vantaggio, parte sulla destra Maloku, sul suo cross sponda di Fayete, tocco decisivo di Miani. 1-0 al settimo minuto. 5 minuti dopo il raddoppio, la conclusione di Maloku, ma la complicità di Damario. È evidente, 2-0 dopo 12 minuti. Al quindicesimo arriva il 3-0, ancora Maloku, solo, dimenticato della difesa, trafigge senza problemi, il numero uno ospite. 3 gol di scarto dopo un quarto d'ora. Per il 4-0 bisogna aspettare solo 4 minuti, stavolta ad approfittare dell'ennesima voragine della difesa frentana. Si preoccupa Fayeta. Il massacro della Spa Lanciano continua al 24esimo. Ancora Fayeta colpisce con un preciso diagonale. 5-0 dopo 25 minuti. Il primo tempo in pratica finisce qui. Il Pineto si ferma e la Spa è incapace non tanto di creare occasioni, ma anche solo di imbastire le premesse per un'azione offensiva. Nel secondo tempo Miani impiega due minuti per seglare la doppietta personale. Su gentile regalo della difesa lancianese. 6-0 al 47esimo. Un minuto dopo il numero nove Pinetese con una bella girata fa tripletta. Il risultato è sempre più rotondo. 7-0. Al 55esimo Spadano fa correre il primo pericolo alla porta di Difuria. Palla comunque fuori. E' l'anticipazione del gol della bandiera della Spa che arriva al 57esimo con una bella azione personale di Tucci. 7-1. Un minuto dopo però il Pineto ristabilisce subito le distanze. Col gol di Giorgio Assogna. 8-1. Al 58esimo. Al 63esimo Miani, sazio per la tripletta, serve a rapino l'ennesimo gol, il nono, di una partita surreale. 60 secondi e arriva il decimo, l'unico che mancava nel tabellino di Felice. Mette la sua firma. 10-1 dopo 64 minuti. Dopo il decimo gol il Pineto si impegna a non oltrepassare la metà campo, producendosi in un infinito possesso palla. Decisivo colpo di grazia per un pomeriggio da dimenticare. Noi abbiamo affrontato col massimo impegno anche questa gara. Sapevamo delle difficoltà della Spallanciano, ma comunque sì è un avversario dignitoso che comunque sta onorando il campionato fino alla fine. Il nostro dovere è impegnarci al massimo perché questi tre punti per noi sono fondamentali per sperare in un eventuale aggancio nella zona alta. Prossimo turno contro l'Alba Adriatica. Ci si gioca l'accessa ai play-off? Credo sì, sia una partita decisiva, ma tutte quelle che mancano ora sono decisive. Per sperare dobbiamo comunque fare un risultato positivo ad Alba nell'anticipo di sabato. Grazie. Grazie.